Siamo nei pressi di Campigna, nel Parco Nazionale delle Foreste Chisantinesi in Monte Faltorone a Campigna e questa è una postazione della linea gotica. Sono queste insienature nella roccia, ce ne sono quattro da questa parte e altrettante più avanti, dove durante la Seconda Guerra Mondiale furono scavate e venivano utilizzate presumibilmente per tenere principalmente dei viveri, ma forse anche delle armi, non si sa. Erano delle postazioni tedesche, in questa parte di qua siamo nel versante romagnolo, alle nostre spalle c'è il crinale, dove c'erano gli alleati che salivano e capite che questa era una posizione strategica, perché non poteva essere bombardati dagli aerei che venivano da questa direzione e andavano in un'altra direzione, mentre in questa direzione qua c'erano le postazioni tedesche e la strada passava poco sotto. Quindi era possibile venire a rifornirle ed erano comunque sia ben protette e poco visibili ai soldati che passavano dal di qui.